Ciao a tutti ragazzi, questo è Xur in 60 secondi, andiamo subito a vedere cosa vende. Per il titano troviamo Casco della Luce Intima, che ci fornisce morte dall'alto e testardaggine per la sottoclasse Pugno della Distruzione, consigliato in PvP. Per il cacciatore invece troviamo Arachnide ATS-8, che ci aumenta lo zoom e la precisione di pistola d'oro quando questa è mirata, e la fa rimanere pronta più a lungo, consigliato con riserve in PvP. Mentre per lo stregone troviamo Mente Dossidiana, che ci riduce il recupero di Bomba Nova quando uccidiamo con quest'ultima, consigliata assolutamente no. Infine questa settimana fa ritorno il Multistrumento Mida, consigliatissimo per il PvP, è una delle armi primarie migliori e inoltre ci permette di avere anche il radar sempre attivo, quindi compratela. Per questo Xur è tutto, a settimana prossima! Grazie a tutti!